oh i chiuditi oh invece io gli ho detto va bene, mi mette un po' di rizzocco fa rizzocco ma dici che in italia nel mondo non c'è quanto la zocco n'è stato si esagerato stanno più rizzoccoli da casa quest'anno ma non parlare di zocco ma tu sai con i zoccoli ma tu sai con i zoccoli tu metti una pizza a risi no 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 non è che è l'izzocco e non saiugsama nienta non sei stile no 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 i topi i topi si ma vede è l'orio ma non capisco non è giusto sotto terra quando c'è stato l'incendio di Picosauro faccio un po' una statistica se ne parla di 100 miliardi di soldi e noi penso che la popolazione sono 6 miliardi 7 miliardi sono 10 miliardi ogni cristiano stanno... per ogni uomo stanno 5 donne per ogni coppia ci stanno 7 coppie socco